Seconda classificata, Zlada Olbortova. Prima classificata, Suspans. Irina Koczenko. Lunga distanza, coltello maschile. Lunga distanza, coltello maschile. Terzo classificato, Vadim Zb... Secondo classificato, un grande amico, Pascal Bucrou. Primo classificato, Adam Cerati. Adam Celadine, 19.23 m. Adam Celadine, 19.23 m. Adam Celadine, 19.23 m. Adam Celadine, 19.22 m. Lunga distanza Ascia femminile. Long distance for Axe for women. Terza classificata Renata Velecta. Seconda classificata Ivana Karligova. Prima classificata Desiree Walter. Desiree Walter. Grazie. 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 Lunga distanza, Asce. Terzo classificato, Costantin Malice. Secondo classificato, Tani Avel. Tani Avel. Stani! Stani! Stani, Stani! Secondo classificato. E stani li faccio le foto! Stani! 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 Grazie. Questa è la terza in testa di speed. La seconda è Konstantin Malishev. La seconda è Sergei Fodosenko. Grazie. Andra? Andra? Andra coltello. Andra coltello. Andra coltello. Knife hunter for women. Oksana Gudilko is the third one. Lada Oboltomo. Lada Oboltovui. E Elena Gigante! Gliadio, Zocchio! Piscini... Knife hunter for min! Il terzo classificato è Stefano Cristini Il terzo classificato è Geri Ziska Il terzo classificato è Michal Pal Grazie 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 La seconda è Lada Oboltova La prima è Melody Cuenca La seconda è Lada Oboltova La seconda è Peter Cramer 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 La seconda è Tai Cramer La seconda è Peter Cramer e ora il target anglietta, lo vedete là il secondo è Tiziano Guerrini e il primo è Daniel Lacroix bravi arrivederci applausi sta a scavare sta a scavare guarda te grazie 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 ora il paio per l'instintivo o no spin Il terzo è Sergei Fedesenko. Il terzo è Dimitri Melnikov. Il terzo è Adam Chalati. Alla prossima. Alla prossima.